La maggioranza degli allievi del Master in Storie e Design del gioiello del Dipartimento di Arezzo dell'Università di Siena riesce poi a ottenere un contratto di lavoro. E dalle creazioni degli allievi di quest'anno è nata la mostra una pieve preziosa che sarà visibile nella Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo fino all'8 aprile. Il tema dell'edizione 2017 del Master era la pieve di Santa Maria. I prototipi finiti sono stati realizzati dall'azienda eografia retina durante lo stage di fine corso. Sono i lavori finali quindi gioielli dell'allieve del Master perché durante il Master loro progettano, fanno dei veri progetti, un book con un argomento predeterminato dal Master, quest'anno era la pieve e poi durante lo stage realizzano gioielli. Quindi qui voi potete ammirare nelle vetrine i gioielli realizzati dagli allievi del Master 2017. Sono delle giovinezze molto creative, molto propositive e quindi siamo molto felici di questo dialogo con la Fondazione Bruschi che tra l'altro sta avviando una serie di iniziative legate al cinquantesimo e quindi a un ricordo di Ivan Bruschi, a un ricordo della Fondazione della Fiera Antiquaria, un momento importante per la città.